signore e signori ma che volete omovene seconda buonasera e ben ritrovati nel consueto appuntamento settimanale dopo la felice esperienza di riserva di caccia con questa nuova rubrica chiamata come vene si conta si aprono le ostilità contro tutti quei fatti e quelle opinioni che non condividiamo e contro quei personaggi che dovessero assumere decisioni in contrasto con gli interessi della sicilia delle piccole e medie imprese e con l'etica e la legalità finta quindi l'euforia per la bellissima vittoria della nostra nazionale di calcio sull'inghilterra che detto per inciso avrà un impatto positivo sul prodotto interno lordo al meno dello 0,77 per cento e archiviati gli sgarbi dei britannici alla nostra bandiera al nostro presidente della repubblica e allo sport vi voglio parlare di due cose la prima l'abisso che separa quella che fu la patria delle democrazie occidentali dalla nostra tanto criticata italietta il paese della tolleranza del cosiddetto fair play si è esibito davanti a tutto il mondo in una ignobile gazzarra i nostri giocatori giustamente hanno restituito loro pan per focaccia cancellando con una grande prestazione le offese e le sceneggiate inscenate contro di loro delle quali gli inglesi ancora non si sono scusate l'unica nota positiva che arriva dai sudditi di sua maestà o per meglio dire da chi li rappresenta e la condanna ai cori razzisti contro i tre giovani calciatori di colore che hanno sbagliato i rigori l'altra cosa che vi voglio raccontare così come l'ho appresa senza levare o i ungerenenti comu bene riguarda le nuove norme sul default e sui crediti deteriorati e ne parlo di questa questione perché il default delle imprese indebitate con le banche e i crediti deteriorati rischiano di avere un impatto devastante anche nella gestione delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza i cui primi fondi vi informo pari a 24,9 miliardi di euro arriveranno ai primi di agosto ma cosa dicono e cosa stabiliscono queste nuove norme queste nuove norme stringendo stringendo stabiliscono che il debitore è considerato tale se in arretrato da oltre 90 giorni su un'obbligazione verso una banca per importi superiori a 500 euro e che tale importo rappresenti l'uno per cento del totale delle esposizioni udite udite tutto questo per le persone fisiche ovvero per le famiglie le piccole e medie imprese con un'esposizione complessiva inferiore a un milione di euro la soglia di 500 euro si abbassa a 100 euro tutto questo detto in termini ancora più semplici significa che un'azienda una piccola e medie impresa una famiglia che hanno arretrati di pagamento verso la banca di 500 euro viene dichiarata inadempiente e segnalata alla centrale rischio di banca italia le conseguenze di un'eventuale segnalazione saranno quelle che i soggetti anzidetti possono scrivere lo dico chiaro e tondo carne di porco alla possibilità di ottenere un prestito o un finanziamento da parte della banca tutto questo viene complicato ulteriormente con il divieto di compensare le esposizioni in sofferenza con i margini disponibili su altre linee di credito accordato allo stesso debitore ma poiché come si dice i guai quasi sempre non arrivano da soli ecco che viene introdotto con il cosiddetto calendar provisioning l'obbligo per le banche di svalutare integralmente i crediti deteriorati con le scadenze prestabilite il che significa che le banche dovranno prevedere dei livelli minimi di accantonamento prudenziale per ogni singola esposizione deteriorata e la quota dell'esposizione coperta da accantonamento dovrebbe via via aumentare nel tempo a prescindere dal motivo per cui il credito si è deteriorato la svalutazione totale dei cosiddetti pnl a dire dei crediti deteriorati deve essere fatta in tre sette o nove anni a seconda se il credito deteriorato sia di tipo pirografario garantito o garantito da immobile un credito quindi con garanzia reale dopo nove anni non vale più niente secondo lebba l'autorità bancaria europea e questo diciamo chiaramente rappresenta una tagliola una vera e propria trappola per le stesse banche ma quali saranno vi chiederete le conseguenze di queste nuove norme le le conseguenze di queste nuove norme saranno da un lato una restrizione dei criteri di concessione del credito questo perché la banca farà questo tipo di ragionamento se ho poco tempo per la svalutazione dei crediti dovrò stare molto attento quando delibero un finanziamento dall'altro la stessa banca sarà incentivata alla gestione del credito ai fondi di investimento al primo segnale di deterioramento del credito poiché tutti sanno che cedere ai fondi di investimento vuol dire accumulare perdite le banche tenderanno di risolvere al loro interno una situazione di credito deteriorato ma perché tutto questo deve deve preoccupare imprese e famiglie deve preoccupare le imprese e le famiglie non solo perché sono solo il 35 per cento le imprese che nel terzo trimestre 2020 sono risultati in regola con i tempi di pagamento ma anche perché il valore dei crediti deteriorati previsto alla fine del 2020 sarà di 300 miliardi di euro ecco perché c'è da essere molto seriamente preoccupati intere filiere a partire da quella del stessa abbigliamento della moda dei servizi e dell'idilizia quelle più duramente colpite dalla crisi degli anni scorsi che dagli effetti della pandemia da cove di 19 rischiano di pagare il prezzo più alto di essere uccise definitivamente dobbiamo essere seriamente preoccupati noi siciliani in particolare non solo per quanto ho detto sulle imprese ma anche perché la sicilia occupa il primo posto nella graduatoria dei soggetti debitori in percentuale e in assoluto tant'è che il 75 per cento di questi soggetti debitori è rappresentato da famiglie siciliane è vero che abbi e banca italia hanno spiegato che le norme europee sul default non devono ritenersi in assoluto obbligatorie ma visco il governatore della banca d'italia proprio nell'ultima assemblea dell'abbi ha ripetuto urbi e te orbi che il tema dei crediti deteriorati resta un tema di assoluta centralità e che abbassare la guardia su questo fronte sarebbe un errore il che è equivale a dire che su questo versante questi signori andranno avanti con tutte le conseguenze per imprese e famiglia che ho prima richiamate chi è abituato però a cercare il pelo nell'uovo di fronte a quest'allarme che sto lanciando potrebbe obiettare ma perché aprire l'ombrello prima che piove risponda a questa obiezione con una battuta in siciliano stretto così ci capiamo meglio così guardò si salvò quindi per non girarci attorno o interviene subito il governo il parlamento o si rischia di ammazzare tutte quelle imprese tutte quelle famiglie già duramente colpiti dalla crisi che nel sud lo ricordo non è mai finita del tutto e dalla pandemia che hanno indotto tante imprese e famiglie a indebitarsi pur di andare avanti e lasciarsi aperta la porta della speranza concludo cari amici e care amiche dicendo che avrei voluto parlarvi di una gradatoria quella che riguarda il giudizio degli italiani sull'operato dei sindaci che vede udite udite il primo cittadino di catania all'ultimo posto ma siccome il tempo è tiranno la chiudo qui ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima settimana naturalmente la prossima settimana non potrò fare altro che parlarvi di questa benedetta o maledetta graduatoria grazie e buona serata a tutti